ehi ciao io sono bernie per gli amici bernardo possiamo concentrarci un attimo su di me sono un uomo in questo mondo e non so come presentarmi e già sono un po timido ma iniziamo dall'inizio sapete questo mondo così vasto avevo l'esigenza di raccontare le mie grandi storie e le mie avventure e spero vi possano piacere comunque come già avrete capito mi chiamo bernardo per gli amici stretti bernie e per gli amici ancora più stretti bernie 2011 il nome con cui vi faccio chiamare comunque vivo ad alcamo una città provincia di trapani in sicilia un poco sperduta ma siamo comunque riconosciuta è comunque riconosciuta per la nostra incredibile abilità nel fare il vino come diceva il detto romano roma caput mundi alcamo secondi un po modo per farci eccellere diciamo detto questo non credo vi possa interessare il posto dove vivo ma piuttosto le mie avventure sapete ne ho così tante da che volevo raccontarvi come sono arrivato fino a qua e beh spero che questa mini presentazione possa esservi piaciuta e che possiate continuare a supportarmi detto questo lasciate un like iscrivetevi e se volete commentate questa è la mia firma la mia firma